assistiamo anche qui nello scorcio del 2024 c'è la prima metà sostanzialmente a un trend che conferma quello dell'anno scorso riguardo agli attacchi ne abbiamo fatto qui un cenno con riferimento a quelli che colpiscono le piccole e medie imprese perché l'occasione di oggi era quella di far presentare ripresentare alla stampa il messaggio che tra un po vedremo sulla rai e su altri emittenti che invita le nostre piccole e medie imprese a proteggersi meglio nella loro superficie digitale per poter resistere in maniera più efficace agli attacchi che colpiscono spesso e volentieri i loro servizi i loro sistemi e questo come spiegava anche baracchini in questa conferenza stampa comporta una perdita di confidenza da parte delle nostre imprese sia riguardo alla diciamo alla reputazione che come ho sentito prima la risposta del sottosegretario che queste imprese ripetutamente attaccate naturalmente perdono rispetto a possibili committenti quindi ne risente anche il loro portafoglio di investimenti e di il loro portafoglio di ordini diciamo ecco perché naturalmente si può immaginare che un'impresa che non riesca a stare al passo con la sicurezza cibernetica e si veda continuamente afflitta da questi attacchi e colpita da questi attacchi naturalmente poi per quella forma di selezione che il mercato fa spontaneamente sempre accaduto questo in economia regredirà nel rispetto agli altri competitors in questo stesso ambito in cui questa impresa opera quindi ne diventa anche un danno economico molto grave molto serio che compromette la tenuta di queste imprese sul mercato